Ormai vi è chiaro che il vero esperto mette al primo posto voi e le vostre reali esigenze e non il budget. Il vero esperto è in grado di partire dall'inizio per organizzare al top il giorno delle vostre nozze, pianificare il vostro giorno di nozze valutando luoghi, tempi, persone e risorse necessarie. Eseguire concretamente tutto ciò che è stato pianificato in progetto, assistervi lungo tutto il percorso, controllare e supervisionare tutte le risorse e le maestranze impegnate per l'organizzazione del giorno delle nozze. Concludere il giorno delle nozze con successo, avendo centrato l'obiettivo, ossia realizzare e rendere concreto il giorno più bello della vostra vita, mettendo sul foglio della realtà ciò che da sempre sognate. Grazie 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 Grazie